Due giornate interamente dedicate all'animal cultura. Torna a Pescara un appuntamento imperdibile per gli amanti degli animali e per i loro amici a quattro zampe che sabato 6 novembre e domenica 7 al porto turistico Marina di Pescara potranno fare un tuffo nel mondo del pet grazie alla fiera Quattro Zampe Expo. L'appuntamento fieristico giunto alla sua quarta edizione rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel centro-sud Italia per i professionisti e per gli appassionati del settore che potranno conoscere tutte le novità in tema di cibo, accessori, cura, divertimento e formazione dedicate agli animali. La manifestazione che nel 2020 ha subito uno stop forzato a causa della pandemia è promossa dall'assessorato alla tutela del mondo animale del comune di Pescara e curato dall'associazione Vai Victis Apps e gode del patrocinio del Consiglio regionale d'Abruzzo. Sì un'attenzione molto importante perché ribadisco sotto il periodo più buio abbiamo avuto modo di accorgerci che questi questi grandi amici a quattro zampe ci hanno tenuto compagnia hanno fatto in modo di non farci andare di non farci pesare ecco quello che era poi il lockdown quindi grazie a loro e questa questa manifestazione l'abbiamo voluta soprattutto per sensibilizzare poi quelle che sono le adozioni perché continuo a ripetere che adottare un amico a quattro zampe è veramente qualcosa di importante per noi per i nostri bambini perché ci possono dare tanto affetto e ci possono insegnare anche tanto. Due giornate dedicate ai pet lovers e al mondo dei quattro zampe perché il mondo degli animali che sono cani gatti comunque animali domestici sono diventati elementi essenziali per affrontare la giornata elementi per vivere anche periodi difficili come ad esempio quelli del covid in cui abbiamo molto apprezzato quello che significa un animale domestico un animale a quattro zampe quindi ci faranno tutte quelle che sono le aziende le associazioni che mirano a far sì che ci sia una vera e propria cultura animale dell'area metropolitana che significa un miglior modo di gestire anche la vita cittadina.